Per troppo tempo è stato dimenticato il contributo degli IMI, gli internati militari italiani nei lager nazisti, alla rifondazione della patria, alla resistenza, alla liberazione. L'8 settembre del 43 infatti non ci fu solo lo sfacelo totale dello Stato italiano, ma anche la disgregazione dell'esercito e il caos che ne seguì dopo l'armistizio significò una lunga e sofferta odissea per centinaia di migliaia di soldati ufficiali catturati dai tedeschi, insaccati in vagoni e trascinati nei campi di concentramento polacchi, nei lager della Germania. Oltre 750.000 italiani furono privati delle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra. Una resistenza muta e silenziosa, rimossa dalla memoria collettiva, esperienze terrificanti e indimenticabili anche per tanti militari del territorio della BAT. Il colonnello Francesco Grasso, comandante del presidio di Barletta nel 43, che si arrese dopo una strenua resistenza con pochi uomini e mezzi, e poi Ruggero Iodice, Michele Scardini, Umberto Greco, Giuseppe Capuano, ma l'elenco potrebbe continuare, è lunghissimo, storie di persone per costruire la verità. In prefettura Barletta fino al prossimo 30 aprile una mostra documentaria dedicata agli IMI, promossa dalla locale sezione della Società di Storia Patria. La mostra, curata da Laura Fano e Mimmo Ciocia, raccoglie le testimonianze materiali e fotografiche sulla tragedia degli internati militari. Gli IMI pagarono drammaticamente con la deportazione la loro scelta di non continuare a combattere a fianco dei nazisti, contribuendo sul piano politico e militare alla liberazione, evidenziato il prefetto della BAT, Maria Antonietta Cerniglia, nel corso dell'inaugurazione. Tali iniziative inserite nel contesto del 73esimo anniversario della liberazione servono a tener viva la memoria di una triste pagina di storia del nostro paese, ha affermato Cerniglia, radicando nella nostra tradizione valori quali la libertà che non bisogna mai dare per scontati. Alla cerimonia intervenuti il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, il presidente della locale sezione della Società di Storia Patria, Antonietta Magliocca, il responsabile dell'archivio della Resistenza e della Memoria, Luigi Di Quonzo, il presidente dell'AMPIBAT, Roberto Tarantino, il presidente della FIDAPA di Barletta, Angela Maria Lorusso e le autorità civili e militari del territorio.